Ecco la nuova sede del comune di Giarre. Tutta l'attività amministrativa del centro in provincia di Catania si svolgerà qui, nella stanza che vedete. Siamo all'interno dell'ospedale di Giarre, nella stanza accanto a quella del direttore generale. Il sindaco Roberto Bonaccorsi e la sua giunta ne hanno preso possesso, un gesto estremo che non è una provocazione, così come spiega il primo cittadino gerrese, esasperato dalla situazione in cui versa l'importante presidio sanitario. Io trasfererò il mio quartier generale qua per monitorare giorno dopo giorno i progressi che si fanno. Se non ci dovessero essere progressi si potrebbe arrivare anche alla soluzione estrema che è quella della chiusura dell'ospedale. La situazione è a dir poco drammatica. Il pronto soccorso ha a disposizione soltanto un'ambulanza. Le altre, così come testimoniano le immagini, sono inutilizzabili. Ecco un triste mausoleo all'entrata. E su questa ambulanza la cenere dell'Etna che vi si è accumulata sopra non ha bisogno di commenti. La cardiologia esiste soltanto sul cartello ma il servizio è stato sospesso da tempo. La radiologia è attiva soltanto nelle ore diurne. Su otto medici previsti, soltanto cinque in servizio, tre dei quali non reperibili per permessi istituzionali o di altro genere. Gravi carenze anche nell'organico infermieristico. Previsti 85 infermieri, assunti solo 67. Il 50% dei quali gode di diritti che permettono loro di non essere presenti sul posto di lavoro. Il tutto in un territorio che serve un bacino d'utenza di 120.000 persone. E buon accorsi si rivolge alla regione siciliana. L'altro giorno è uscito nel nuovo piano di rifunzionalizzazione, è uscita la notizia che Giare avrebbe avuto solo la lungodegenza. Poi qualcuno, il rappresentante dell'assessore, ha detto che si trattava di un refuso. Ecco, parlare di una città come Giare e considerare un refuso alcune attività è mortificante per un territorio vasto che ha gli stessi diritti degli altri territori. E siccome in alcuni casi ripetere Giova, facciamo ribadire al sindaco che il suo non sarà un colpo di teatro. L'ospedale di Giare diventa il centro dell'amministrazione comunale. Perfetto, sarà così. Sarà così nei prossimi mesi o fin quando non mi metteranno in atto tutte le cose che mi sono state premesse in questo anno e non sono state mantenute, non mi sposerò da qui.